Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca. Ancora un colpo messo a segno ai danni di un'azienda di preziosi, questa volta a finire nel mirino di una banda di malviventi, è stata la Nicole di Anghiari. Ricostruisce l'accaduto per noi Chiara Sadotti. In azione un vero e proprio comando, composto da almeno quattro persone che prima ha sbarrato la strada con dei tronchi e poi ha fatto razzia di argento. E' successo nella notte ad Anghiari, nelle mire dei malviventi, un'azienda di preziosi. I ladri hanno sfondato l'ingresso dell'azienda servendosi di un tir comariete ed è stato rubato poco prima a città di Castello. Poi una volta dentro la banda si tratterebbe di quattro persone con il volto coperto dal passamontagna, ha fatto razzia di bobine d'argento in lavorazione ed è scappata con il bottino che, sembrerebbe ingente, potrebbe infatti raggiungere alcune centinaia di migliaia di euro. Siete preoccupati però? Questa è una banda di esperti? Certo. Poi questi sono amici, ci lavorano tanti amici miei. Insomma, cose che vi piacciono innanzitutto. Non dovrebbero succedere però. I malviventi per guadagnarsi la fuga hanno anche sistemato dei tronchi d'albero sulla strada per impedire così alle pattuglie delle forze dell'ordine di inseguirli. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Un colpo con analogie rispetto ad altri assalti messi a segno sempre nell'aretino. Lo scorso ottobre un furto da quasi un milione di euro in un'azienda di Quarata con modalità del tutto simili. Anche in quel caso strade sbarrate e un'auto rubata lanciata contro il cancello per sfondarlo. Un incidente stradale ha paralizzato questo pomeriggio, poco prima delle 16, il tratto aretino dell'autostrada del Sole tra i caselli del Val d'Arro e di Battifolle e ha bloccato l'arteria sia a nord che a sud con gravi disagi al traffico. Vediamo il servizio di Greta Settivelli. Un mezzo pesante che trasportava generi alimentari ha preso fuoco lungo il tratto aretino dell'autosole al chilometro 347 tra Val d'Arno e Arezzo. Il conducente è rimasto illeso ma le ripercussioni sul traffico sono state drammatiche. L'Italia è stata divisa in due per le operazioni di soccorso e spegnimento. È stato necessario chiudere il tratto in entrambe le direzioni di marcia. Secondo una prima ricostruzione il mezzo si è prima ribaltato e poi ha preso fuoco. Il conducente è riuscito per fortuna ad uscire in autonomia. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi. In tutto tre automezzi e nove unità. Immediato anche il messaggio di Autostrade per l'Italia sul sito che indicava le uscite alternative ma il traffico è rimasto congestionato per ore. Sul posto anche la polizia stradale e il personale di società autostrade. Ancora cronaca un aretino è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo all'auto in circolazione ha mostrato segni di nervosismo. Poi in rapido controllo i suoi dati e i militari hanno scoperto che aveva numerosi precedenti legati agli stupefacenti. Così è scattato un controllo più approfondito che si è concluso con l'arresto. I carabinieri lo hanno fermato lungo la strada per Gargonza. Aveva con sé 100 grammi di hashish. I due ragazzi sono rimasti bloccati su una roccia in mezzo al fiume in piena. A salvarli ci hanno pensato i vigili del fuoco di Arezzo che in pochissimo tempo sono riusciti a raggiungerli. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri alle 16 e 40 è giunta la centrale operativa di Arezzo la richiesta di soccorso. Un ragazzo e una ragazza a quanto pare nel tentativo di guadare il fiume e raggiungere la sfonda opposta sarebbero stati travolti dalla forte corrente e per pura fortuna sono riusciti ad evitare il peggio arrampicandosi su una roccia situata in mezzo al letto del fiume e circondata da acqua alta. Inmediato l'intervento della squadra fluviale è indispensabile l'intervento dell'elicottero. Drago 57 del reparto volo di Arezzo che ha raggiunto i due giovani, verri ricellato gli eli soccorritori e tratto in salvo i ragazzi che un po' infreddoliti e impauriti sono tornati sulla terraferma sani e salvi. Lezioni di educazione civica organizzata nelle scuole aretine dall'Associazione Intratevere Tarno che stanno volgendo al termine. Sentiamo quali sono gli ultimi argomenti che saranno affrontati in chiusura di questa seconda edizione. Vediamo. Questa mattina si ospita una lezione del sindaco, siamo un po' in chiusura anche di questa seconda stagione perché alla fine andrà di pari passo con l'anno scolastico. Si può tracciare un piccolo bilancio? È un bilancio non falsamente ma positivo perché c'è stata una rispondenza da parte di scuole di materiale, di visione. Io ho indicato appunto che su Arezzo TV c'è sempre tutta la registrazione. E poi soprattutto un bilancio perché noi volevamo essere un supporto a quello che a scuola purtroppo gli insegnanti non sono in grado di fare. E la lezione di stamani lo dice perché nessun manuale di educazione civica può contemperare quello che questi esperti raccontano anche con presenza diretta. C'è rimasta una manciata di incontri, che temi toccherete? Allora ci sarà il 22, il ex giudice, il magistrato Fruganti, che parlerà praticamente della partecipazione anche lui che è necessaria dal punto di vista della società, soprattutto nella giovane generazione. E poi io seguirò il Presidente Artini il 7 maggio a Redi, perché il Fruganti è Alitis, il quale farà comunque sempre una dissertazione di come al mutare della società e dell'economia muti anche praticamente come si interpreta la Costituzione. E poi dopo verrò io il 17 con una conferenza che partirà dal matriarcato, dal patriarcato come concetti, quando si è avuto l'uno e l'altro. Poi insisterò sull'articolo 3 facendo un discorso anche un po' storico sulle donne più importanti che hanno contribuito a formare la storia per poi passare al gruppo delle donne aretine. E adesso spostiamoci in Casentino da lunedì 15 aprile. Prenderanno il via i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'ospedale del Casentino a lavori della durata di un anno che interesseranno l'intera struttura ospedaliera con il rifacimento della pavimentazione di alcune aree e l'adeguamento dell'impianto antincendio. Gli interventi per rendere più sicuro l'ospedale sotto il profilo degli incendi richiedono l'accesso ai controsoffitti di tutti i corridoi della struttura. In considerazione della natura e della sede degli interventi saranno necessarie rimodulazioni e trasferimenti temporanei interni all'ospedale delle attività sanitarie che comporteranno la ridefinizione dei percorsi di accesso ai vari servizi. E saranno 27 le aziende aretine che parteciperanno con CNA Arezzo alla 47esima edizione di Istanbul Jewelry Show in programma dal 17 al 20 aprile. Quella di Istanbul è ormai consolidata tra le prime cinque fiere internazionali più importanti al mondo per il settore della gioielleria spiega il presidente Orafi CNA di Arezzo e della Toscana Mauro Benvenuto che è anche presidente della consulta Orafa Aretina. I dati dell'export del 2023 ci dicono infatti che quello turco è il mercato in maggiore espansione nel settore della gioielleria, tanto da aver scavalcato gli Emirati Arabi che rappresentando oggi il mercato più importante per le nostre aziende. Si tratta quindi di un dato frutto di due fattori. L'importanza del mercato turco per milioni di turisti che ogni anno visitano i bazar pieni di gioiellerie nelle quali la qualità del prodotto italiano è fondamentale e anche il ruolo di ponte tra Oriente e Occidente che in virtù anche della situazione internazionale la Turchia oggi rappresenta. Partecipazione dei lavoratori nelle aziende e decreti delegati nella scuola Analogie e Prospettive. Questo è il titolo dell'incontro organizzato dalla CISL Aretina che torna ad affrontare il tema della partecipazione dei lavoratori nelle aziende. Lo ha fatto nell'aula magna del liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo. La CISL Aretina torna ad affrontare il tema della partecipazione dei lavoratori nelle aziende e lo ha fatto nell'aula magna del liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo. Con la partecipazione possono essere ridotti in termini fisiologici i conflitti perché si può discutere prima. Partecipazione dei lavoratori nelle aziende e decreti delegati nella scuola Analogie e Prospettive è il titolo dell'incontro. Con i decreti delegati si comincia una prima vera e propria democratizzazione perché i professori col collegio dei docenti da una parte presieduti dal preside e il consiglio di istituto presieduti invece da un genitore. Entrano nella scuola le voci degli studenti e il consiglio di istituto e il collegio dei docenti è tenuto ad esercitare la sua funzione soprattutto nella didattica ma tenendo conto di questi elementi. È evidente che i decreti delegati devono essere riconfigurati anche perché i genitori non vengono quasi più, gli alunni partecipano poco, i collegi dei docenti da quando sono diventati anche un'operazione online diciamo così hanno perso anche di vivacità, di motivazione, quindi i decreti delegati vanno riattivati. La CISL ha anche depositato una proposta di legge in Parlamento sul tema della partecipazione attiva dei lavoratori nelle aziende. Nasce dall'intesa tra i comuni di Castiglione Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro il nuovo progetto di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del territorio. Il progetto si intitola Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana e prevede un sistema unico di comunicazione e promozione dedicato ai quattro comuni con particolare riferimento al periodo rinascimentale e alla eccezionale fioritura di maestri e capolavori che lo hanno caratterizzato e che ancora oggi costituisce uno straordinario patrimonio identitario. L'idea progettuale è sostenuta dal critico d'arte Vittorio Sgarbi. Bartolomeo della Gatta, Piero della Francesca, Donatello e altri grandi maestri hanno lasciato opere capitali in un territorio delimitato fra la Valtichiana e la Valtiberina per un itinerario di poco più di 40 chilometri da percorrere in un contesto paesaggistico incantevole arricchito da una straordinaria offerta enogastronomica. Il progetto sarà promosso attraverso una mirata campagna di promozione e advertising e un'attività di social media management. Il progetto prevede anche la produzione di eventi. Il primo è in programma con un Alexio Magistralis a cura del critico d'arte Vittorio Sgarbi che si terrà il 26 aprile a Sansepolcro. E adesso parliamo di animali perché lo scudo di Pan cerca balie per cucciolate di gatti abbandonati in servizio. Balie di gattini cerca, siccome ogni primavera infatti è previsto l'arrivo di numerose cucciolate di piccoli felini, alcuni anche orfani e appena nati. L'appello è rivolto a chi desidera aiutare ad allattare e svezzare i mici fino al momento dell'adozione. Persone che siano consapevole però di cos'è fare la balia. Non è un giocattolo il gattino, va allattato ogni tre ore, va tenuto al caldo, va stimolato per fare sia la pipì che la popò perché da sole non lo fanno all'inizio e quindi va fatto tutto quello che fa la mamma. È difficilissimo, quindi deve essere proprio consapevole che è un impegno grandissimo e è un impegno per due mesi. Oltre a 100 i gattini che lo scorso anno, dalla primavera all'autunno, sono stati accolti e poi fatti adottare dall'associazione animalista retina lo scudo di panna, un copione destinato a ripetersi riga dopo riga anche quest'anno con l'arrivo della bella stagione. Una vergogna se si può dire perché se uno non vuole i gatti basta sterilizzare la mamma. La sterilizzazione è molto importante, è molto importante prima di tutto per non avere le cucciolate ma poi anche se ci sa un maschio è importante perché si evitano le malattie che ci sono, fib, fel, poi nei periodi degli amori ci sono tantissimi gatti morti per la strada. Dall'associazione infine un altro appello, non toccare e soprattutto non spostare i gattini in assenza delle mamme. Noi dobbiamo pensare che la mamma sposta le cucciolate di continuo quando è il momento di spostarle e ne sposta uno per volta, quindi è ovvio che o di qua o di là c'è sempre qualche gattino che rimane solo e se noi stiamo lì a guardarli di continuo o lì nei paraggi la mamma non si farà mai vedere, quindi peggioriamo la situazione. Da oggi Arezzo ospita la mostra di Giovanni Frangi, l'artista, realizzerà la lancia della giostra del Sarecino. La mostra è presente alla Galleria Comunale Arte Moderna e Contemporanea. Ascoltiamolo. Sembra che lei realizzerà una lancia della giostra del Sarecino. Esatto, esatto, stiamo lavorando per questo e devo preparare un mio progetto legato appunto anche all'anno vasariano e nelle proprie settimane metterò appunto questa mia idea. Vasari, un titolo, chi è? Vasari è stato un grandissimo, io ho avuto a che fare con Vasari come lo dimostra la prima stanza di questa mostra perché ho realizzato per Federico Tiezzi una serie di costumi legati alla rivisitazione delle vite che Vasari ha scritto e riscritte da Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi ha realizzato questi video e allora io ho trovato, diciamo, lui aveva bisogno, Federico, di trovare in me l'atmosfera di uno studio di un artista oggi per cui lui ha preso degli elementi che appartengono al mio studio e alcuni sono anche visibili qua e io ho realizzato questi costumi in qualche modo vestito Pontormo, ho vestito Rosso Fiorentino e ho vestito a Buffarmacco. E adesso spazio alla pagina sportiva anche in occasione della partita Arezzo Torres che si disputerà lunedì 15 aprile con inizio alle 20.45 scattano le consuete disposizioni a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana finalizzate a prevenire situazioni di pericolosità causate dall'abuso di alcol. Con una specifica ordinanza il sindaco ha disposto infatti il divieto di somministrazione per asporto e di vendita per asporto di bevande e alimenti contenuti in recipienti di vetro e di latta e di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi. La misura riguarda tutti gli esercizi commerciali anche temporanei e su area pubblica compresi in un raggio di 500 metri dall'impianto sportivo nella fascia oraria che precede di 4 ore l'inizio della partita fino alle 4 ore successive al termine della stessa. È vietato inoltre usare e portare contenitori di vetro e latta al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi di commercio in sede fissa. In chiusura parliamo di ciclismo. Sono circa 200 gli iscritti in rappresentanza di 27 squadre della categoria Juniores che arriveranno domenica alla 41esima edizione del trofeo sportivi Pieve al Toppo, trofeo Beoni 4x4. Il via è previsto alle 14.30. E con questo è davvero tutto per la nostra informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.